Due chef e quattro mani per uno speciale appuntamento dedicato al tartufo. Stornano le serate con la buona tavola alla taverna dello Scoiattolo, nel verde della tenuta del ciocco. L'arte e la bravura in cucina di Stefano Vincenti e Gabriele Fanani saranno quindi i protagonisti di quella che rimane un'iniziativa unica nel suo genere, che serve anche per sfatare il mito dell'inconciliabilità dei cuochi di solito abituati a lavorare da soli. Sapori intensi per l'evento di venerdì sera, 8 novembre, quando i due chef combineranno ingredienti di altissima qualità con sapori pregiati per andare alla scoperta del re dell'autunno, sua maestà il tartufo. Abbiamo una varietà dello scorzone autunnale, l'uncinatum, e poi parte dei piatti saranno con l'ingrediente principe che arriverà domani direttamente da San Mignato, il tartufo bianco. Nel menù, dai pecorini ai salumi a base di tartufo, all'uovo con tartufo nero, poi il farrotto a base di tartufo e il tagliarin, primo piatto tipico delle langhe, con tartufo bianco fresco. Tra i secondi, la guancia cotta a basse temperature, tartufo servito con un vino malvasia. Il locale di Castelvecchio Pascoli riprende con questo appuntamento un viaggio alla scoperta delle eccellenze. Dopo la pausa estiva riprendiamo questi eventi a quattro mani, la prossima sarà il 22 novembre con l'azienda Il Grillo, con lo chef Stefano Bertolini.